Prima in un orario di otto ore con più personale, noi entro in un certo orario si riusciva ad assicurare l'igiene della persona entro un orario decoroso. Oggi siamo costretti ad arrivare all'ora di pranzo che ancora qualcuno deve essere lavato dalla sera prima. È tutto racchiuso nelle parole di Eva, ossi in servizio nella residenza d'Orica, la casa di riposo situata alla baraccola, il disagio dei lavoratori della struttura che nelle scorse ore hanno manifestato per la seconda volta contro la nuova organizzazione dei turni che a detta di lavoratori e sindacati avrebbe causato un peggioramento delle condizioni di lavoro e una riduzione dei tempi di assistenza. C'è stata un'interlocuzione insufficiente con l'azienda, l'azienda propone alcuni soldi da erogare per i primi mesi ma del tutto insufficienti a coprire il disagio che vivono questi lavoratori e il disagio che vivono gli ospiti di questa struttura il cui servizio si sta riducendo nei tempi di assistenza. Lo sciopero con tanto di sit-in davanti alla struttura ha visto un'adesione superiore al 90%. Con l'iniziativa sindacati e lavoratori chiedono il ritiro del piano e l'apertura di un tavolo di confronto. I motivi della protesta di oggi sono legati alla nuova organizzazione del lavoro. La nuova turnazione chiediamo all'azienda di mettere in campo un tavolo per affrontare la questione legata alla nuova turnistica che penalizza pesantemente sia i lavoratori che gli ospiti della struttura.